Benvenuti nel canale delle notizie napoletane. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Dopo che il Liverpool ha offerto 25 milioni di euro per la firma, un altro club appare con 30 milioni di euro. La scorsa settimana, i media spagnoli hanno affermato che il Liverpool aveva fatto un'offerta di 25 milioni di euro per la stella del Celta de Vigo Gabriel Veiga. Con l'offerta dei Reds rifiutata, ora sembra che altre parti interessate si siano sentite incoraggiate a portare più soldi nella conversazione. Secondo Sport, ora il Napoli si è presentato e ha messo sul tavolo una proposta da 30 milioni di euro. Veiga è noto per essere protetto da una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, e sembra che lo sforzo della squadra di Serie A non sarà ancora sufficiente, con il rapporto che afferma che il presidente del club Carlos Mourinho non farà sconti. Sport sottolinea che il Napoli sta cercando di anticipare altri club interessati, e il Liverpool guadagna una menzione in quella lista, insieme a Real Madrid e Manchester City. Il giornale ricorda anche il rapporto di Cope sull'offerta dei Reds, dicendo che il Celta de Vigo l'ha già rifiutata. Il Napoli potrebbe aver fatto un'offerta migliore, ma i due offerenti sembrano ancora un po' i lontani dalla richiesta della Liga. Il club spagnolo conosce il valore del giocatore e si aspetta chiaramente che i club raccolgano più soldi.